Buongiorno e bentornati a mezz'ora in più. Oggi il nostro primo ospite sarà il segretario della Lega Matteo Salvini che ha iniziato un'operazione molto politica, molto interessante e quindi credo che se c'è un momento per ascoltarlo questo è proprio quello giusto. Grazie Salvini per essere da noi. La sua proposta a Silvio Berlusconi di unificare il campo largo della destra che alcuni già definiscono un'opa in realtà sulla destra altri definiscono addirittura una di quelle mosse che può ridefinire l'intero panorama politico italiano è stata fatta ancora però a un paio di giorni di distanza non è chiaro qual è la risposta da parte di Forza Italia e non è neanche molto chiaro a noi effettivamente su quale progetto intendete lavorare. Allora facciamo un punto su questo. Lo scopo finale e anche le date diciamo di questa sua proposta cos'è un partito unificato, l'unificazione dei gruppi parlamentari, le variabili sono tante. Ci dica lei. Il Covid ci ha insegnato che in questo periodo bisogna essere veloci, uniti e concreti. Questo ci chiedono le persone. Io sono qua in collegamento da Zambrone sulla splendida costa calabrese. Ho parlato con alcuni imprenditori, con alcune mamme. Non sono li preoccupate di dibatterle le etichette sovranisti, populisti, centrodestra, centrosinistra. Le priorità sono la salute, il lavoro, i giovani e lo sviluppo. Quindi la domanda che mi sono fatto, che faccio a chi è davanti al televisore, che ho fatto agli altri leader del centrodestra, centrodestra perché non è solo Lega Forza Italia, ma ne sto ragionando con Cesa, con Lupi, con Toti, con Sgarbi, con Brugnaro, con i sindaci, con i governatori. Continuiamo a rimanere in Parlamento e fuori dal Parlamento divisi in 4, 5, 6, 7 gruppi ciascuno con le sue idee, le sue proposte, oppure per aiutare la ripartenza, la ripresa, la rinascita del Paese dopo questo anno e mezzo di paura, di morte, di chiusura? Non vale la pena mettere insieme, mettere in comune sia in Italia che in Europa, idee, proposte di legge, emendamenti. Nelle prossime settimane, Lucia, ci sono in Parlamento la riforma della pubblica amministrazione, la riforma della burocrazia, la riforma del fisco e la riforma delle giustizie. Non vale la pena avere una sola posizione comune sul taglio delle tasse, sul taglio dei tempi dei processi, sul taglio della burocrazia per avere appalti più veloci come forze di centrodestra? Secondo me sì, quindi mettere insieme le energie migliori, a partire dal Parlamento arrivando sui territori, anche perché dall'altra parte ci sono proposte di tasse, di patrimoniali, di tasse di successione, di tasse sui conti correnti, di una nuova tassa sulla casa. Quindi io penso che sarebbe utile anche a Draghi e al Paese avere una voce sola, con ovviamente ciascuno che mantiene la sua identità, ma una voce sola, in modo tale che sul taglio delle tasse, sulla riforma della giustizia, sul lavoro ai giovani, non c'è nel centrodestra un ventaglio di 18 proposte diverse, uniti si vince. E questa è la mia idea. Sì, certo, l'unità in politica è sempre da considerare un valore, no? La frammentazione è sempre caotica e l'unità è sempre un valore, quindi sono d'accordo con lei. Però poi ci sono forme diverse di unificazioni. Lei per esempio in questo momento ha parlato di rimanere nelle differenze, però avere una voce sola. Una voce sola significa fare un comitato di coordinamento permanente? Significa unificare i gruppi parlamentari? Che cosa esattamente intende? Non parlo di fusioni, annessioni, robe strane, perché le robe non si fanno in fretta. Parlo di una collaborazione già da domani, ripeto, sui temi concreti, che sono le tasse, che sono il lavoro. Io sono qua in Calabria. Il centrodestra, ad esempio, ha una posizione unica sullo sviluppo della Calabria. Servono porti, aeroporti, serve il ponte, che non è solo il ponte fra Sicilia e Calabria, ma è il ponte fra l'Italia e l'Europa. È sviluppo, è ingegneria, è innovazione, è rispetto dell'ambiente. Se il centrodestra riuscisse a parlare con una sola voce, in Sicilia, in Calabria, a Roma e a Bruxelles, sarebbe più difficile per la sinistra e i 5 Stelle tirarla in lungo e perdere tempo. Sono d'accordo con lei, però come lei sa, visto che poi questi tentativi sono stati fatti molte volte, a destra come a sinistra, e sono sempre andati abbastanza in maniera discutibile, esattamente, lei pensa, sono un po', diciamo, anche per far capire, sono un po' così intigno su questo. Lei immagina che ci sarà già da domani mattina, come ha detto lei, un coordinamento, perché avere una sola voce significa avere uno stesso studio delle questioni aperte, avere un continuo confronto. Lei immagina che si forma un coordinamento con ogni partito che dà un coordinatore? Ha capito meglio lei di tanti giornalisti che stanno sparando a caso. In tre minuti penso che ci siamo capiti e quindi spero che ci siamo capiti anche con chi è a casa. Non è un'operazione partitica per la campagna elettorale, per inventarsi un nuovo simbolo e garantire il posto a Roma a tre persone. No, è una messa in comunione di valori. Il Covid, lei ha ragione, in passato sono fallite operazioni fatte a tavolino, ma noi abbiamo sofferto per un anno e mezzo. Noi domani, in buona parte d'Italia, riconquistiamo le libertà, il diritto ad andare al bar, al ristorante, in piscina, in palestra, il coprifuoco scala a mezzanotte, grazie anche alle impuntature della Lega, alle proposte della Lega. Quindi dopo il Covid non c'è più tempo di litigare, di dividere, di passare ore in Parlamento su mozioni, ordini del giorno, con 18 idee diverse. Io dico al centrodestra, la proposta che farò in settimana al centrodestra, ma guardi, la forma non mi interessa, il mio ruolo non mi interessa, la forma vado alla sostanza. In settimana io ho invitato i leader di tutti i movimenti di centrodestra a sedersi intorno a un tavolo. E quando arriva in Parlamento, ripeto, il taglio delle tasse, voglio essere molto concreto, la riforma e la giustizia, ci troviamo prima, confrontiamo le idee prima, arriviamo a una sintesi prima, arriviamo con una voce unica alla Camera, al Senato, e a me piacerebbe anche in Europa. Lei stava dicendo, perché altrimenti Francia e Germania dettano legge e dettano tempi, mettere insieme le energie migliori rende più forte il centrodestra e l'Italia. Lei stava dicendo che farà una proposta entro domani su che forma di coordinamento utilizzare? Poi si è dimenticato di dirmela. C'è una formula? No, no, ci troviamo in settimana, perché c'è da chiudere la partita dei candidati sindaci a Roma, a Milano, ormai siamo addirittura ad arrivo, c'è la terra di Calabria che aspetta di capire chi la governerà nei prossimi cinque anni, visto che da sinistra arriva il sindaco di Napoli che ha fallito a Napoli a spiegare ai calabresi cosa devono fare. Ci troveremo in settimana e decideremo in settimana. Ripeto, la mia è una proposta, io per natura non impongo, non dispongo, non dico la Lega è il primo partito e quindi si fa così. Io ascolto, con umiltà, poi vediamo di fare sintesi e di offrire agli italiani e al presidente Draghi, perché il mio interlocutore in questo momento è il presidente Draghi a cui ho dato e confermo totale fiducia, una forza unica che è la prima in Parlamento, che può essere la prima in Europa, che può essere la prima nelle regioni. Dunque, lei si è sentito con Berlusconi, lo sappiamo, insomma, Berlusconi sembrava piuttosto entusiasta di questo progetto, è vero? Nessuno di voi ha paura che Forza Italia si spappoli sotto questo peso di questo nuovo progetto? Ma tutti mettono insieme le loro energie migliori, i loro progetti migliori, i loro amministratori migliori, i loro sindaci migliori. Io penso a una battaglia comune sul taglio delle tasse, ad esempio, mentre Letta propone la tassa di successione, la patrimoniale, noi proponiamo un taglio delle tasse a partire dal certo medio. Quindi il centro-destra che rappresenta una buona parte dell'Italia che produce, che innova, che rinnova da questo punto di vista può essere più forte se è unito. Molto semplice. La riforma tra questi che lei convocherà, tra i capi dei varie organizzazioni di destra, ci sarà in settimana anche Giorgia Meloni? Lo so che è scontata, però è obbligata. Sto parlando delle forze che sostengono il governo Draghi. Va bene. Stiamo parlando di una federazione fra le forze di centro-destra che sostengono il governo Draghi. È chiaro che l'alleanza con Giorgia Meloni, che è un'amica, era e rimane il futuro del centro-destra a livello nazionale. In questi mesi c'è qualcuno che ha scelto di prendersi delle responsabilità di governo rispondendo all'appello di Mattarella per superare l'emergenza Covid, la salute, i vaccini, la ripartenza, le riaperture e quindi questa federazione in questo momento riguarda le forze che sono al governo. Poi sicuramente l'obiettivo è di arrivare tutti insieme a vincere le elezioni quando saranno penso nel 2023. Quindi diciamo lei non sarebbe contrario alla mia definizione che questo è un raggruppamento moderato sostanzialmente sposta la Lega che ha avuto diciamo sicuramente parte un po' la destra che hanno avuto sicuramente impennate molto radicalizzate o radicalizzanti si spostano con questa operazione su un terreno moderato che è quello poi altrimenti il presidente Berlusconi non ci starebbe immagino. No ma guardi dipende dal significato che lei e chi è davanti al televisore danno all'aggettivo moderato. Io penso a un centrodestra che ad esempio sulle politiche relative all'immigrazione clandestina abbia una posizione comune una voce comune chi scappa dalla guerra è il benvenuto chi invece la guerra ce la porta in casa non è il benvenuto quindi bloccare barchini barconi barchette di turisti che vengono a portare non ricchezza ma problemi è un valore comune io non so se questo possa essere moderato o meno però io penso che l'Italia in questo momento abbia bisogno di più lavoro più sicurezza più certezza più salute e meno problemi e l'immigrazione fuori controllo sicuramente alimenta i problemi ma al di là della prendiamo un terreno prendiamo un terreno allora su cui mi sembra che c'è stato un campiemento prima di arrivare a questa proposta a Silvio Berlusconi il terreno della giustizia lei su questo ha sicuramente segnato in passato delle distanze da Silvio Berlusconi cioè lei è sempre stato a favore del carcere duro a favore diciamo delle applicazioni delle sentenze la ricordo che c'è ancora la testimonianza del sindaco di Lodi ex sindaco di Lodi Simone Ugetti che l'ha accusato di aver fatto il gesto delle manette durante una sua manifestazione contro di lui a Lodi cioè mentre invece Berlusconi ha un altro sappiamo diciamo ha un'altra posizione cosa è successo è successo che in questo periodo lei proprio in questi giorni ha si ha dichiarato di essere d'accordo con il referendum sulla giustizia dei radicali riforme che vanno molto nel senso di quello che è sempre stata la posizione di Silvio Berlusconi ora questo cambiamento immagino che lei l'abbia voluto pensato è una cosa molto importante però serve anche questo a avvicinare lei a Silvio Berlusconi guardi mi permetto di correggerla i referendum i sei referendum per portare l'Italia a essere un paese più civile moderno che cambieranno la giustizia li abbiamo promossi insieme noi e il partito radicale li abbiamo scritti insieme e ringrazio gli avvocati e i costituzionalisti che ci hanno dato gratuitamente una mano e li abbiamo depositati insieme perché possono essere dopo 30 anni di attesa quella rivoluzione nei tribunali per tutti i cittadini di cui l'Italia ha bisogno quando li abbiamo scritti onestamente non pensavo a Berlusconi a Letta a Di Maio o a equilibri politici sono sei quesiti che riguardano la vita di tutti i cittadini perché tagliano i tempi dei processi tagliano le correnti che hanno lottizzato tribunali e CSM chi sbaglia paga è un principio che riguarda tutti i lavoratori in Italia e quindi se un giudice sbaglia sulla pelle di un cittadino ne deve pagare le conseguenze io penso che su questo il centrodestra compatto da Berlusconi a Lameloni da Totti a Brugnaro da Lupi a Cesa a Sgarbi sarà unito nelle piazze italiane con socialisti liberali repubblicani per raccogliere il firme dal prossimo 2 luglio sulla certezza della pena ovviamente io non cambierò mai idea sull'ergastolo che deve essere ergastolo per i mafiosi come Brusca non cambierò mai idea ma penso che anche Berlusconi non abbia nulla da eccepire sul fatto che chi sbaglia paga e la pena debba essere certa non ci possono essere sconti sicuramente non siamo riusciti negli anni passati a riformare la giustizia io ho l'ambizione che lo facciano gli italiani se ci danno una mano con la loro firma a partire dal 2 luglio ci sarà tempo solo a luglio e agosto per raccogliere un milione di firme noi ci proviamo e sarà un aiuto anche a Draghi al Parlamento che deve fare le riforme al Ministro Cartabia insomma voglio dire avete ormai con Berlusconi la stessa idea sul ruolo dei giudici e sul ruolo della giustizia mi sta dicendo mi sembra evidente dopodiché è sempre stato così non credo questa non è questi non sono referendum no ma questi non sono referendum contro contro i giudici contro i magistrati contro gli avvocati sono referendum contro i processi che durano 10 anni e contro quella piccolissima parte di giudici che fanno politica in tribunale il 99% dei giudici sono liberi gli avvocati sono avvocati per bene i magistrati sono magistrati per bene noi vogliamo garantire il taglio delle correnti della spartizione politica dei tribunali e garantire agli italiani che un processo comincia un giorno e finisce un altro giorno e chi sbaglia con dolo come tutti gli altri lavoratori paga tutelando i sindaci e gli amministratori locali dalle incursioni quotidiane della magistratura io su questo penso che possano essere d'accordo il 90% degli italiani e ai gazebo per firmare aspetto elettori della sinistra elettori dei 5 stelle non elettori perché avere un processo in tempi brevi in tempi civili come nel resto d'Europa è un diritto questi referendum che lei ha firmato e scritto insieme al partito radicale peraltro sono un tema molto importante perché anche dalla sinistra sono nate voci che invitano la sinistra a schierarsi per questi referendum quindi stiamo parlando di temi molto importanti quindi non è un problema di evitare di dire alcune cose per cui dico non ci sarebbe niente di male se lei dicesse che un periodo della sua vita lei è stato uno di quelli che faceva il gesto delle manette contro un contro un sindaco che poi è stato quello di Lodi che poi è stato assolto ma io sono per il carcere io chi sbaglia deve pagare non c'è niente chi sbaglia deve pagare su questo non cambia assolutamente idea ma un processo non può durare dieci anni dottoressa un processo sia che tu sia colpevole sia che tu sia innocente non può durare dieci anni perché altrimenti siamo un paese da terzo mondo non siamo un paese europeo e nessuno viene a investire in Italia possiamo almeno metterci con onestà d'accordo sul fatto che lei ha cambiato alcune posizioni rispetto al periodo in cui faceva campagna contro gli immigrati andava a suonare sotto i campanelli lei spaccia non mi ricordo che cosa diceva su questo cioè voglio dire lei ha passato un periodo in cui in cui predicava la galera dura no? cioè in questo momento ovviamente lei per gli spacciatori e lo predico ancora oggi lo predico ancora oggi per me spacciatori stupratori assassini devono stare in galera lavorando lavorando pure non a sbafo e il famoso citofono in cui chiesi al pilastro nel quartiere periferia bolognese se c'era uno spacciatore è stato certificato perché quegli spacciatori sono stati arrestati quindi io non è che giri per l'Italia citofonando a caso va bene allora lei su questo non cambia una mamma mi segnala e non ho mai mi permetta solo una cosa lei ha detto le sue campagne contro gli immigrati io non ho mai fatto una campagna contro gli immigrati il mio problema non è e non sarà mai il colore della pelle o il luogo dove uno nasce tu puoi nascere qua a Vibo Valenzi a Milano a Malta in Nigerio in Nuova Zelanda se sei un uomo o una donna per bene sei un mio fratello il mio problema è l'illegalità lo sfruttamento e l'immigrazione clandestina perché io difendo il diritto dei 5 milioni di immigrati regolarmente presenti in Italia a lavorare tranquillamente a inserirsi tranquillamente senza essere confusi con quelli che sbarcano e che vanno a spacciare e a far casino di quella gente non abbiamo bisogno in Italia cioè lei mi dice seriamente che lei il suo discorso sugli immigrati sulla chiusura dei porti sulla sicurezza nazionale non hanno aiutato a sollevare nel paese un clima contro i migranti indipendentemente dal fatto che lei abbia fatto meno diciamo campagna diretta lei pensa di non avere non avere le volte io penso che gli italiani siano il popolo più solidale accogliente generoso e laborioso del mondo gli italiani sono emigrati nel resto del mondo portando fatica sudore bellezza impegno e sacrificio quindi quelli che dicono italiani razzisti italiani razzisti non capiscono nulla e semplicemente prendo atto che il governo di sinistra in Spagna espelle 5.000 immigrati in un quarto d'ora il governo in Francia difende la frontiera a 20 miglia e il governo di sinistra in Danimarca dice i centri per richiedenti asilo non li voglio in Danimarca ma li voglio in Nord Africa quindi controllare chi entra e chi esce da un paese a prescindere dal colore della pelle o da dove sei nato è un dovere io da ministro dell'interno applicavo il mio dovere di tutelare la sicurezza del mio paese né più né meno lei ha fatto un twitter su questo ragazzo che si è suicidato a commento della sua lettera anche se bisogna dire qui per dovere di cronaca che la famiglia sostiene che il razzismo non c'entra niente con il suicidio e ha detto una preghiera per te ragazzo un forte abbraccio alla tua famiglia gli italiani sono da sempre generosi laboriosi accoglienti e solidali che ancora distingue o disprezza un essere umano in base al colore della pelle è un cretino punto forse è un criminale le ha risposto una persona su sempre via twitter un criminale un delinquente chi discrimina in base alle scelte sessuali al colore della pelle alla vita privata di ciascuno è un cretino uno può fare l'amore con chi vuole può andare a spasso con chi vuole può baciare chi vuole può essere bianco nero giallo rosso verde può chiedere in Cristo in Buddha in Maometto o non credere basta che rispetti la storia italiana e le leggi italiane un cretino ma non un criminale ma se vuole facciamo la copiata un cretino e un criminale chi discrimina in base al sesso alla razza alla religione è un cretino trattino criminale va bene senta un altro tema che riguarda la giustizia di cui lei è stato protagonista in queste ultime ore è stata la liberazione di Giovanni Brusca che è tornato libero dopo 25 anni boss mafioso accusato della strage di Capaci e peraltro dell'assassinio del piccolo Giuseppe Di Matteo sciolto nell'acido lei ha detto questa non è la giustizia che gli italiani si meritano però lei è stato ministro degli interni e conosce molto bene che l'uso dei pentiti che è la ragione per cui poi sono stati fatti sconti di tempo e di altre cose a Giuseppe Di Matteo è stata fondamentale nella lotta alla mafia che cosa farebbe lei cosa avrebbe voluto non avere i pentiti cioè voglio dire non è la giustizia ma quindi cosa vorrebbe che la mafia non non so qual è la sua proposta alternativa no 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 io da ministro dell'interno ho combattuto in ogni dove mafia camorra e indrangheta e nel 2021 non c'è la mafia e l'indrangheta del 1992 questa è una legge figlia degli anni pombo degli anni 80 e dei primi anni 90 e assolutamente in quegli anni poteva andare bene oggi la mafia la camorra e l'indrangheta tu le combatti confiscando confiscando aziende ville conti correnti perché oggi mafia camorra e indrangheta purtroppo non solo in Italia ma in Europa e nel mondo vanno laddove ci sono soldi io sto combattendo per raddoppiare il fondo anti usura a disposizione degli imprenditori degli artigiani dei commercianti che dopo il covid hanno problemi e se vanno in banca non hanno i requisiti previsti dall'algoritmo quindi oggi la mafia sicuramente si combatte con gli strumenti di indagine abbiamo una polizia eccezionale abbiamo inquirenti eccezionali e una magistratura antimafia assolutamente d'eccellenza penso ad esempio fra i tanti a Catello Maresca magistrato antica morra da anni che presenterete in Napoli sapere che sapere che c'è uno che ha ucciso cento persone ha sciolto un bambino nell'acido che oggi è tranquillo magari qua in spiaggia in mezzo alle persone per bene che ci sono qua in spiaggia a Zambrone mi fa inorridire e quindi quella legge sicuramente va rivista perché vanno confiscati i beni dei mafiosi però se hai ucciso cento persone per quello che mi riguarda finisci la tua vita in galera non prima la mia domanda però è che lui è uscito secondo una legge dello Stato persino la sorella di la legge l'ha rispettata la legge del 92 quindi bisognerebbe cambiare la legge secondo me è ora di rivedere questa legge dopo 30 anni assolutamente sì dopo 30 anni la mafia è cambiata l'Italia è cambiata i soldi girano in maniera diversa bisogna inseguire questi infami paese per paese banca per banca attività commerciale per attività commerciale perché questi stanno comprando in questo momento negozi locali bar tabaccherie pizzerie alberi lì vanno stanati ecco questo significa anche abolire i pentiti no no non abolire se ti vuoi pentire per carità di Dio avrò un occhio di riguardo per te però se hai ucciso non 3-4 ma 300 persone tu non esci di galera e poi ti mantengo pure io con la tua famiglia no amico mio tu se vuoi pentirti magari ti do una cella più confortevole ma tu di galera non esci io la penso così e non pretendo no no va bene stiamo stiamo cercando anche per rispetto alle vittime di mafia stiamo cercando di capire dunque c'è un altro tema che riguarda sempre ho fatto la domanda solo 5 secondi e poi le rispondo ho fatto la domanda che mi ha fatto lei l'ho fatta settimana scorsa su Instagram poi per carità non pretendo che i social dettino legge però così come stamattina ho chiesto se qualcuno vuole venire dopo la trasmissione per non togliere audience ovviamente a partecipare alla discussione su Instagram ho chiesto cosa ne pensano secondo me dell'ottima idea portata avanti da Draghi di tassare le multinazionali del web quelle multinazionali che arrivano in Italia fatturano in Italia vendono in Italia fanno concorrenza sleale i nostri imprenditori i nostri artigiani i nostri commercianti e poi vanno all'estero con la sede all'estero a pagare le tasse ho fatto la domanda su Brusca e il 90% della gente che ha risposto ha detto cambiamola una legge così c'è l'hanno rispettata nessuno dice nulla però siamo nel 2021 cambiamola dunque un'altra un'altra diciamo questione sollevata dai un'altra questione sollevata dai referendum è perché fare il referendum se in ballo se in ballo la riforma della giustizia a cui sta lavorando il ministro Cartabia diciamo che senso ha fare questa cosa lei ha già risposto dicendo perché i referendum saranno uno stimolo sostanzialmente ma potrebbero anche essere un elemento più che di stimolo anche di destabilizzazione del lavoro no ma soprattutto no dottoressa riguardano temi che non sono oggetto della riforma io spero che arrivi il prima possibile la riforma della giustizia almeno di una parte della giustizia portata avanti da Draghi e dal ministro Cartabia che però non riguarda i temi del referendum nei temi del referendum noi tocchiamo alcuni passaggi che non sono oggetto dell'attuale discussione la responsabilità civile dei magistrati la separazione delle carriere la riforma del CSM però scusi il CSM la separazione delle carriere consigli giudiziari coincidono con alcuni dei temi affrontati dalla riforma Cartabia mi smentisca se ho sbagliato ad informarmi almeno 3 su 6 dei referendum vanno a che fare con lo stesso che si figuri io sono sempre c'è da anni ad esempio c'è da anni giacente in Parlamento una proposta sulla separazione delle carriere che non è mai stata affrontata da anni sfido lei e chi ci guarda davanti al televisore da quanti anni si sente parlare del fatto che bisogna togliere le correnti togliere potere alle correnti in magistratura togliere la politica togliere l'ottizzazione dai tribunali risultati concreti zero e abbiamo dovuto aspettare il libro di Sallusti e Palamara che ha venduto 300.000 copie per accorgersi che il sistema è marcio e va rifondato quindi se il Parlamento nei prossimi mesi riuscirà a fare quello che non ha fatto in 30 anni noi siamo contenti se e noi come Lega daremo il nostro contributo e spero come centrodestra unito daremo il nostro contributo se invece per l'ennesima volta il Parlamento parlerà parlerà ma non arrivare a nulla se gli italiani fermeranno questi referendum nella primavera prossima sicuramente queste sei riforme si dovranno fare sulla riforma della giustizia un'ultima domanda mi dispiace oggi abbiamo fatto solo questo è forse meno gustoso della politica pura però avevo delle curiosità uno dei temi se vuole mi fermo tutto il pomeriggio con lei sì sicuramente un giorno dovrebbe venire qui a fare una lunga seduta volevo dire uno dei temi della giustizia della riforma della giustizia è la questione della prescrizione che è stato diciamo nella precedente proposta del precedente ministro di giustizia nel governo di cui lui anche lei faceva parte è stato votato anche da lei su questo tema qui lei ha cambiato la questione della prescrizione ha cambiato opinione o no? Assolutamente no noi dicemmo di sì al cambio della prescrizione che doveva essere contestuale alla riforma dei processi alla riforma del processo civile e del processo penale cosa che poi per i no dei 5 stelle non si sono fatte quindi tu non hai riformato i processi ai tempi dei processi ma tieni gli italiani sotto processo a vita perché sono tutti presunti colpevoli perché ci sono i 5 stelle che ritiene che chiunque respiri la mattina si alzi e sia un potenziale ladro io sono qua in Calabria e sono rimasti solo PD e 5 stelle a non volere nuove strade nuovi porti nuovi aeroporti e il ponte quindi questi referendum saranno anche un sì una forza del sì contro i partiti dei no e delle tasse e dello Iusoli e del DDL ZAN e di cose che non riguardano l'emergenza economica e sanitaria che in questo momento sono il lavoro e la salute per me in questo momento prima di tutto vengono lavoro e salute e avere una giustizia più veloce una burocrazia più veloce aiuta a creare posti di lavoro sicuramente le nuove tasse proposte da Letta e da Grillo non aiutano neanche mezza famiglia italiana va bene tanto come dire possiamo dire che continueremo a fare un punto con lei su tutte queste questioni mi sembrano ancora in alto mare in alto mare per l'appunto come lei la ringrazio tantissimo Salvini e ci vediamo grazie a lei per l'ospitalità e ringrazio chi alla fine vorrà venire a dire la sua su Instagram visto che ascolto tutti e mi confronto con tutti va bene va bene grazie Salvini a presto non andate in Grecia o in Francia rimanete qua in Calabria quest'estate ecco ci sono anche gli applausi grazie Salvini a presto